Buongiorno a tutti, mi chiamo Maria Vittoria Gammarella e mi trovo allo spazio corpora. Stiamo allestendo la collettiva che inizierà il 15 di gennaio e a cui parteciperò con questa opera che si intitola Ritratto di Enne. Il ritratto è un pretesto per indagare il mistero del colore e della forma. La materia è trattata in modo astratto, in modo da creare delle distrutture. Le correnti artistiche a cui mi inspiro sono l'espressionismo e tutte le avanguardie storiche. Grazie a tutti. Grazie a te.